Cos'è questa coscienza? Punto F attraverso Francesca R e a cura di VB Guida Cos'è questa coscienza? Cos'è quella parte che voi incarnativamente parlando rappresentate? La definizione di coscienza è emanazione dell'essere stesso che in un continuo processo di essere e divenire manifesta la sua conoscenza all'interno di se stessa Creando e percependo una realtà incarnativa la coscienza favorisce il processo dell'esperire Il ciclo dell'incarnarsi e reincarnarsi è continuativo fino all'esperire totale e segue l'economica legge del divenire e del sapere coscienziale che conducono all'essere Grazie 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 Grazie